Abbiamo un'offerta commerciale piuttosto ampia, abbiamo conteggiato più o meno intorno ai 700 brand presenti qui all'interno, suddivisi ovviamente in spazi merceologici differenti, quindi abbiamo il piano meno uno dedicato al design supermarket, al mondo del travel, all'office, abbiamo un nuovo negozio di foto, di cameras si declina la parte della casa e del design in modo molto più accessibile dovuto al tipo di esposizione che predilegiamo che è quella tipica di un supermercato, questo è un concetto che abbiamo già sviluppato su Milano con il design supermarket Il piano terra invece è dedicato al mondo del lusso perché abbiamo i migliori brand dell'accessorio e sono anche quei brand che consentono anche di realizzare spazi commerciali molto ricchi e preziosi ciascuno di loro ha realizzato corner importanti e l'offerta commerciale va dai Louis Vuitton a Prada, Gucci, Valentino, Fendi quindi non vorrei perdermene qualcuno perché comunque sono i più importanti del panorama del lusso di questo momento abbiamo comunque un primo piano che è dedicato alla profumeria canonica, abbastanza tradizionale con tutti i brand più importanti che vanno da Chanel a Dior al gruppo Loader eccetera abbiamo una parte di lingerie che in un department store ovviamente non può mancare abbiamo due piani dedicati all'uomo quindi, entrambi si sviluppano con il primo piano più fashion con una presenza maggiore di prime linee e quindi il primo piano dell'uomo avrà per esempio Zegna, Balenciaga e quindi Gucci e queste sono le prime linee e un secondo piano più contemporaneo e quindi con brand magari più accessibili o comunque di diffusione maggiore su entrambi i piani abbiamo un'offerta di shoes più classiche al secondo piano più sneaker al terzo piano perché riteniamo che sia comunque un veicolo di traffico all'interno del building i piani della donna abbiamo nel quarto piano la parte più lussuosa quindi di prime linee quindi parliamo di Céline, Saloran, Gucci, Valentino, adesso non vorrei perdermi qualche nome ma naturalmente è abbastanza ricco il panorama e il piano superiore invece più contemporaneo con lo stesso tipo di schema che abbiamo all'uomo il sesto piano invece è importante perché stacca completamente l'offerta abbiamo il food, quindi ci sono cinque ristoranti, le terrazze che dominano la città è una parte di food market realizzata da noi con prodotti di nicchia non è un supermercato ben inteso, è un food market gourmet chiamiamolo in questo modo